Montorio ha deciso di omaggiare uno dei suoi concittadini più illustri. Il 20 maggio il Cineteatro sarà intitolato al regista Torino Valeri. Sì, è stata un'idea che abbiamo ripreso dalla passata amministrazione quando l'ex assessore alla cultura insieme a tanti concittadini montoriesi avevano appunto percorso questa brillante idea, cioè di intitolare il Cineteatro a chi effettivamente nella storia ha fatto cinema e lo ha fatto ad altissimi livelli. È stato un iter molto lungo perché il prefetto, Sua Eccellenza Patrizzi, che devo ulteriormente ringraziare naturalmente ha dovuto attivare questa procedura andando in deroga perché appunto non erano passati i dieci anni dalla scomparsa del nostro regista Torino Valeri e quindi diciamo che la produzione di documenti, di file che stavano ad attestare la bontà artistica di questo regista sono stati innumerevoli. Quindi poi, insomma, devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti in sinergia. Siamo riusciti a trovare molti documenti che attestavano appunto la grandezza di questo regista e da lì siamo partiti e nell'arco di qualche mese abbiamo ottenuto questa autorizzazione. Come BIM avete sposato questa iniziativa? Avete aiutato concretamente nell'organizzazione di questo evento che avverrà, ricordiamo, il 20 maggio? Beh, quando chiama il delegato alla cultura di Montorio, Lorenzo Valeriani, non si può fare altro che appoggiare questa iniziativa. Iniziativa che riconosce un valore assoluto al comune di Montorio, l'intitolazione di un cineteatro e il BIM che è sempre presente sul territorio attraverso l'aiuto economici per le tante iniziative. Quindi Gabriele Minos, il presidente, alla quale ci siamo rivolti, è stato gentilissimo nel concederci questo e quindi noi siamo sempre vicino alle amministrazioni che chiedono soprattutto riconoscimenti del genere.